Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione Sud. Su raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e imprunita greve inchianti con possibili disagi alla circolazione. La statale A12 della Betone e del Brennero è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana all'altezza di San Marcello. Per una frana chiusa anche la regionale 325 tra Prato e Vaiano. Fino al 9 marzo chiusa la funicolare di Certaldo per lavori attivo servizio di trasporto alternativo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!